Un saluto e ben trovati alla voce delle istituzioni, ospite in studio quest'oggi Achille Barnaboi, il sindaco di Domegge di Cadore, che saluto e ringrazio veramente per la presenza. Grazie a voi. È un sacco di tempo, è tanto tempo che non ci incontriamo, ci sono tante cose da dire. Lei è a tre quarti del mandato, potremmo così dedicare un'ampia pagina alla sua attività amministrativa, fare un po' un punto della situazione, un bilancio finora. Sì, noi siamo entrati nel quarto anno di amministrazione e effettivamente è un po' di tempo che non ci vediamo. Io sono un po' schivo a questi incontri, interviste eccetera. E' doveroso anche informare la popolazione puntualmente di quello che viene fatto. Noi abbiamo un sito istituzionale nel quale normalmente indichiamo e pubblichiamo tutto ciò che viene fatto in termini di amministrazione, però per quanto riguarda l'aspetto ai lavori pubblici siamo un po' carenti e effettivamente su questo bisogna un attimo recuperare. Abbiamo fatto moltissimi lavori, moltissimi interventi seguendo naturalmente il programma elettorale che ci siamo dati perché questo deve essere il nostro faro, è un programma che siamo stati alletti in base anche al programma che abbiamo presentato e ci siamo attivati immediatamente per gli interventi di carattere idrogeologico che erano quelli forse più importanti, che erano attesi da molti anni anche per mettere in sicurezza alcune parti dell'abitato idomege. Mi riferisco alla Vizza, mi riferisco alla Valbiegia e poi a seguire anche altri interventi sempre del carattere, sempre all'interno della stessa natura. Abbiamo fatto gli interventi sulla strada di Doana, sulla strada del rifugio che va a Rifugio Romiti, Valtalagona, MDS, Barco e poi abbiamo ancora due interventi aperti, parliamo sempre di interventi realizzati post-Vaia a seguito di quella situazione del 2018. Alcuni interventi, un paio di interventi sulla sinistra orografica del lago, di Valle Sella, Domege Valle Sella, che sono iniziati quest'anno e si concluderanno il prossimo anno. Poi abbiamo, diciamo così, abbiamo realizzato gli interventi realizzati, quelli che sono in itinere e quelli che saranno da realizzare per chiudere il mandato. Abbiamo fatto molti interventi come da programma sempre a livello delle scuole, della scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola delle scuole medie. Abbiamo fatto, ad esempio, nelle scuole, così cito alcuni interventi, che sarebbero tantissimi, messo in sicurezza, ad esempio, gli impianti di tutte le scuole. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, abbiamo effettuato gli interventi di sistemazione della pavimentazione, rifatto i pavimenti, abbiamo fatto i pavimenti con dei materiali che attutiscano i colpi anche perché chiaramente gli utenti sono dei bambini. Abbiamo sistemato l'impianto di riscaldamento, che era l'impianto di riscaldamento aria, quindi non era proprio idoneo all'ambiente, l'abbiamo rifatto. L'uscita in sicurezza che non c'erano, le persiane, le tinteggiature, l'area esterna dei giochi. Per quanto riguarda invece le scuole, abbiamo completato la recinzione del parco, abbiamo creato un'area dedicata proprio alla fermata della scuola, bus per mettere in sicurezza agli allunni che usufruiscono di questo servizio. Anche nella scuola elementare abbiamo fatto molti interventi sulla pavimentazione, tendaggi, tinteggiature. Per le scuole medie, idem, lo stesso a Redi, eccetera, no? E per le scuole medie anche abbiamo riattivato dei locali del piano seminterrato che erano stati interdetti, l'uso era stato interdetto in quanto era stata rilevata la presenza di Radon, quindi hanno stati fatti tutti quegli interventi per poterli rendere nuovamente agibili. E poi abbiamo rifatto anche la scala esterna, le medie, per mettere in sicurezza perché era un po', diciamo così, non messi in buone condizioni. Poi abbiamo rifatto il parco giochi, quello a Monte delle Scuole, l'abbiamo realizzato con delle attrezzature un po' particolari, in senso non sono quelle tradizionali, parco giochi tradizionali, di quello a cui io sarei più affezionato. Ormai questi nostri ragazzi amano altri tipi di giochi, abbiamo dovuto, diciamo così, assecondare queste esigenze, queste richieste, tant'è che prima di procedere all'acquisto è stato fatto un sondaggio all'interno delle scuole primarie e le medie, per vedere qual era il gradimento, insomma, di questi giochi e chiaramente poi abbiamo scelto in base, abbiamo acquistato in base alla scelta che è stata fatta ai ragazzi. Sono quei giochi un po' particolari in cui ci si arrampica, non c'è la classica casettina che, ad esempio, che io amo, che io apprezzo, però che purtroppo non è più al passo con i tempi, ecco, insomma, capito. Poi abbiamo realizzato un altro parco giochi, un po' più piccolo, sempre un bello, con la pavimentazione sempre per a tutti i ricolpi, a Valle Sella, in via Torino. Ecco, questi sono, poi abbiamo realizzato degli interventi anche nella fazione di Grea, di asfaltature, dove era necessario, di segnaletica, il parcheggio, che era sempre tutto quello che sto citando, rientrava nel programma. E poi adesso abbiamo, è stato dato l'incarico per la progettazione, no? La rivisitazione e progettazione del ponte Idomese, che è di proprietà comunale, per consolidarlo e per eventualmente riuscire a aumentare, realizzare anche, a margine, anche un percorso ciclopedonale. E tutto questo si scontra però, specie quando si parla di lavori pubblici, con i rincari, l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, su questo? Ma su questo anche, purtroppo abbiamo dovuto anche intervenire con delle risorse, perché addirittura ci sono state delle gare che sono andate deserte, e quindi, proprio per questa ragione, quindi abbiamo dovuto ripeterle, ecco, le gare praticamente, chiaramente adeguando i prezzi, perché altrimenti nessuno si presenta. Una di queste è tra l'altro i bagni, che mi sono dimenticato di ricordarlo, dobbiamo rifare e che l'abbiamo già in progetto approvato, già finanziato, i bagni delle scuole elementari e l'ascensore anche delle scuole, che praticamente rispetto a come era previsto prima, verrà collocato, è stato collocato tra i due edifici, tra quello delle medie e quello delle elementari, per poter essere fruito da entrambi le scuole. E proprio questo è stato, questo della realizzazione dei bagni, è stato un intervento che adesso dovremmo tornare a fare una gara, anche perché quella precedente è andata deserta, ecco. Per quanto riguarda il resto, ci stiamo un attimo difendendo con l'aumento dei costi e anche l'energia, con il relamping di molti punti luce, soprattutto della strada nazionale, quella strada statale, diciamo, che è quella che ha maggiori consumi, e abbiamo visto un centinaio di sostituzioni, un centinaio di plafoniere, abbiamo dovuto anche attuare, purtroppo, qualche piccola restrizione nell'utilizzo della sala San Giorgio, della palestra, ad esempio, la palestra, ad esempio, verrà utilizzata fino al, anche perché viene utilizzata alle scuole, verrà utilizzata fino alle vacanze natalizie, sperando che dopo, che l'anno prossimo, le situazioni cambi si possa, perché anche riscaldare questi volumi è veramente una spesa notevole. e anche abbiamo ridotto, anche là siamo intervenuti sull'utilizzo del campo sportivo di Valle Sella, perché, però, abbiamo rifatto l'impianto di iniziazione del campo sportivo di Domegge, del campo di basket e del campetto, no, con l'impianto a LED, e quindi quello può essere usufruito, ecco, più tranquillamente, perché i consumi sono molto, molto più ridotti, ecco. Questione Ponte di Valle Sella, è una storia lunga, ce la riesci a riassumere e a dire qualche aggiornamento? Ma allora, la storia è lunga, nel senso che è una storia che nasce da mesi fa, insomma, qualche mese fa, mesi fa, insomma, e praticamente il ponte ha avuto un cedimento, ecco, su un pilastro, su una pila, la pila numero 5. Quindi l'Ener, siccome il ponte è di proprietà dell'Ener, questa è una premessa che va fatta e solo l'Ener può decidere come intervenire, no? L'Ener si è intervenuta prontamente con la progettazione e sono in corso i lavori di sistemazione di questa pila. È un ponte che risale agli anni 50, come l'altro di cui gli accennavo prima, quello di Domegge, sono stati realizzati in quegli anni, su cui Domegge di proprietà comunale siamo intervenuti noi con un finanziamento ad hoc per, diciamo così, ristrutturarlo. Ecco, quello di Valle Sella è di proprietà dell'Ener. L'Ener sta eseguendo gli interventi opportuni per mettere in sicurezza il ponte, soprattutto questo pilastro, e i lavori stanno andando avanti e termineranno verosimilmente la primavera dell'anno prossimo. C'è stata un'altra interruzione recentemente perché durante il corso dei lavori c'è stato qualche movimento inaspettato del ponte e per mettere in sicurezza anche l'impresa che stava eseguendo i lavori è stato chiuso nuovamente al transito. Il ponte precedentemente era stato ridotto il transito, era stato limitato il transito con dei mezzi di portata inferiore ai 12 quintali, quella che è la portata attuale, per poter concedere il passaggio proprio dei mezzi, diciamo così, leggeri. Insomma, sicuramente ha creato del disagio, disagio a coloro che hanno delle proprietà e anche a noi perché anche noi avendo questi cantieri aperti abbiamo dovuto trovare altre soluzioni con le ditte, anche facendo slittare un po' i lavori e poi trovare altre soluzioni, ad esempio l'utilizzo dell'elicottero per portare il calcestruzzo al di là del sincantiere, quando si poteva fare con altre modalità. Parallelamente, siccome è un ponte che, ripeto, risale a quegli anni, negli anni 50, abbiamo cercato, io personalmente e anche l'amministrazione, di percorrere la strada della realizzazione di un nuovo ponte. Purtroppo è un'opera che costa moltissimo. Siamo riusciti a ottenere da Enel, tramite anche l'interessamento dell'ex ministro d'Inca, una progettazione di uno studio di fattibilità che ci permetterà, eventualmente, dovesse uscire qualche, esserci qualche linea di finanziamento, poterla utilizzare per poter utilizzare questo ponte nuovo che sarebbe la cosa in assoluto migliore, perché si potrebbe utilizzare un ponte a due corsie, un ponte con la pista ciclabile, perché tra l'altro questo ponte fa parte anche dell'anello ciclabile intorno al lago, cioè praticamente l'anello che va dal ponte di Valle Sella alla diga di Sottocastello. Questo lavoro qua, come saprete, è già stato anche finanziato con i fondi di confine, in parte dei comuni, province, eccetera. E quindi è importante, e non da ultimo è importante, anche perché sta decollando un'attività che è quella del campeggio, che adesso è stata rilevata da una ditta ed ha delle ottime prospettive, insomma, anche sul piano economico. Potrebbe essere veramente un'attività che fa da volano per l'economia di tutta la zona. Il tempo purtroppo vola, è impossibile, come dire, riassumere in un quarto d'ora tutte le attività che sicuramente avete fatto in questo periodo. Noi però siamo giunti al termine di questa intervista, speriamo di rivederci anche prima, la prossima volta. Grazie ancora per la sua presenza qui, Sindaco. Grazie a voi per averci seguito. L'intervista termina qui. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie a voi per averci seguito.